Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della nostra Ora della Fatta Verde, nuova e ultima del mese d'agosto, che come questo grafico a 45 minuti ben mostra, sostanzialmente negli ultimi dieci giorni e passa rappresenta il nulla. Ma dall'altra parte era quello che già avevamo dato come indicazione ieri, quando si era detto che molto probabilmente l'inerzia accumulata in questi ultimi giorni avrebbe finito per influire anche sulla seduta odierna, anche se poi in mattinata si è tentato di dare un colpo d'ala da prima verso l'alto o poi un colpo d'ala verso il basso, ma direi in modo molto cialtrone, perdonatemi questa espressione, ma in modo molto cialtrone, alla fine si è chiuso più o meno dove si era ieri ed è sostanzialmente dove si è sempre stati in tutti questi giorni, un po' più sotto rispetto a quel che si è chiuso oggi, ma direi che si tratta solo di quisquigli. Il mese d'agosto si chiude, di fatto, non si è rivelato un mese come accadeva solitamente, particolarmente agitato, ma questo lo sappiamo fin dall'inizio, troppe date sul sito di Bradley nel mese d'agosto per poter pensare che potesse accadere qualcosa di diverso a quel che tutti si attendevano e quel che tutti si attendevano era che il mercato non fosse destinato né a salire molto né a scendere molto. Alla fine dei conti credo che guadagniamo nel mese due punti e mezzo, che non è poco, ma è anche vero che questi due punti e mezzo li abbiamo guadagnati di fatto nei primi giorni di agosto, perché poi dopo li abbiamo, avendo anche guadagnati più, poi abbiamo finito per perderli e grossomodo dopo la prima settimana eravamo qui e qui siamo fondamentalmente rimasti in chiusura. Adesso inizia un periodo che forse sarà diverso, di certo le prospettive sono radicalmente diverse rispetto a quel che avevamo nel mese d'agosto, il mese di settembre si apre domani, il passaggio dal mese di agosto al mese di settembre non sarà un passaggio qualsiasi, perché il percorso mensile è anche per il nostro mercato, ma non soltanto per il nostro mercato, è un passaggio che è più foriero di negatività che non di positività, è altrettanto vero che il percorso mensile non è un percorso primario, quindi la sua influenza, diciamo, verso la fine del mese di settembre potrebbe essere in un certo qual modo edulcorata, se le cose dovessero andare male, dal percorso trimestrale, che invece apparentemente sta ancora molto bene, o se il percorso mensile, che in realtà una decisione di fatto non l'ha ancora presa, dovrebbe essere preda anche una decisione a rialzo, allora a quel punto l'ultima parte di settembre potrebbe essere avvantaggiata proprio dal fatto che i percorsi si sono tutti allineati in qual modo a rialzo. C'è un percorso primario su cui bisogna stare molto attenti, ma non da domani, quanto diciamo nel prossimo fine settimana, che è il percorso settimanale, che apparentemente sta abbastanza bene, apparentemente perché è in una fase razzista, ma che non sta affatto bene dal punto di vista del rapporto rischio-rendimento, perché questo rapporto rischio-rendimento è ben oltre quel che dovrebbe essere in situazioni come quella che si presenta nella fase in corso. Staremo a vedere. Comunque domani è il primo giorno del mese di settembre, forse qualche cosina riusciremo ad intuire, forse sì, forse che no, non dobbiamo pensare che le cose accadano già il giorno dopo, però è anche vero che nei prossimi tre sedute qualcosa di più dovrebbe accadere di quel che abbiamo visto negli ultimi dieci giorni. Quindi l'appuntamento è per domani, alla stessa ora, come sempre, l'ora della fata verde, che corrisponde per noi italiani più o meno all'ora dell'aperitivo. L'ora della fata verde, Grazie a tutti